Allora, da dove vuole cominciare? Sa come quando invecchiando si usano i bastoni per camminare? Io qui ho un bastone per la mia memoria. Questo è un tacuino. Tutti i soldati ne avevano uno, questo non è il mio. Ma è il miglior bastone su cui io posso appoggiare. Cosa ne pensi? Penso che gli ideali rendano gli uomini volessi. E poi alle volte spero che il mio pensiero possa trasformarsi in azione ma so che se ti dicessi che non sono d'accordo, tu partiresti lo stesso. Appunto. Appunto. Se proprio devi parlarmi, fallo almeno articolando tre parole in una frase. Non pensi che alle volte ne basti una soltanto? Ho fatto comunque pressioni al comando. Di più non potevo fare, lo sai. So che oggi te ne vai. So questo e so che non mi piace. Mamma mia bella. Troppo leggero forse sono stato offrendomi volontariamente al servizio della patria. Volevo sistemarci come papà non è riuscito a fare. Ora voglio solo tornare per baciare quelle mani tue che sanno di sapone affettissime. Io non sono... Io ho lasciato la mia cattedra e i miei studi perché credo in questa guerra come la fine di tutte le guerre. altra attenzia riempire. Mai. 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 Nessuno deve abbandonare la marcia in direzione della trincea nemica. che scusate Grazie a tutti.